Per secoli i poeti sono stati dei grandi costruttori della lingua italiana perché le prime grammatiche italiane del Rinascimento hanno usato la lingua della poesia di Petrarca per costruire le regole, quindi per strutturarlo, per metterlo in ordine addirittura. Però questa lingua italiana poetica, ordinata, grammaticale, è durata fino alla fine dell'Ottocento o all'inizio del Novecento, fino a quando è esistito il poeta Vate, gli ultimi sono Carducci e D'Annunzio. I poeti di lì in poi invece hanno partecipato alla critica e alla distruzione del mondo utilizzando anche nelle loro parole dei termini assolutamente impoetici e non tradizionali, per esempio dei forestierismi. Un bellissimo esempio lo possiamo trarre dal più grande poeta italiano della seconda metà del Novecento, Montale. Montale scrive De confiture non vuol dire che la creme caramel uscita dallo stampo non stia in piedi, vuol dire altro disastro, ma per noi sconsacrati e non mai confettati può bastare. E questo è veramente un linguaggio poetico diverso da quello della tradizione. Ci sono parole forestiere, come de confiture, ma in più c'è uno sberleffo, perché in francese de confiture vuol dire disastro, non vuol dire una parola da ridere. Anche un grande disastro in francese è una de confiture. È il poeta che prende le distanze dal mondo e usa la parola poetica in maniera provocatoria, polemica. La poesia che segue non in caso è famosa, è la storia, quella in cui Montale dice la storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta e in ogni caso molti anelli non tengono. È il poeta che non crede nel grande senso della storia, non crede nelle grandi spiegazioni filosofiche, finalistiche dell'umanità. Grazie a tutti.